Ben trovati in un nuovo appuntamento con l'ospite, questa settimana il protagonista è l'assessore e vice sindaco del comune di Menfi, Saverio Ardizzone, che è anche un medico e quindi avremo modo anche di parlare di sanità. Però partiamo dalla politica, posso definirla l'ultimo sostenitore, estreno sostenitore della sindaca Marilena Moceri, è rimasto solo lei? Ma intanto grazie per questa intervista, ringrazio sempre voi, non finisco mai a ringraziare l'emittente, da Massimo D'Antoni a te che sei sempre gentile con me e con noi, noi politici di piccolo livello. Ogni tanto mi accusano di maltrattare i politici, però… A me non mi è mai successo, comunque io non mi sento l'ultimo dei difensori del sindaco Marilena Moceri e quindi dell'amministrazione di cui mi onoro di fare parte e che sicuramente sosterrò fino all'ultimo secondo e come me penso che ci siano intanto tutti gli altri colleghi dell'Aggiunta e anche consiglieri comunali e molti sostenitori in città, perché non è facile dimostrare le cose che si fanno giornalmente, però spero che si possa dimostrare che quello che si fa è nel giusto e che sicuramente questa amministrazione ha lavorato bene. Questa è sicuramente la mia opinione. Senta però, è innegabile che siamo ormai nell'anno delle elezioni, è innegabile che questa giunta è partita in un modo e è arrivata in tutt'altro, io mi riferivo a questo, degli assessori della prima ora, io non ne ricordo altri. Lo sa perché non l'ho capito, in effetti, perché lei mi dovrebbe elengare quale amministrazione parte in un modo e arriva nello stesso modo. Di solito, se mi posso permettere, le amministrazioni dei paesi iniziano in un modo e poi sta da facendo e verso gli ultimi mesi, poi magari qualcuno pensava di ottenere politicamente più visibilità o meno per prepararsi alle prossime elezioni e poi magari qualcuno prende strada diversa. Spesso succede, guardi, lei non insegna a Sciacca, nell'amministrazione precedente e anche nelle precedenti ancora, come anche a Menfi, tutti poi, come si suol dire, atterrano con un aereo diverso da quello con cui sono partiti. Quindi lei dice fisiologico, però le dico, pur essendo fisiologico, che cosa è successo in questi anni? Perché si è persa la maggioranza, perché ci sono stati questi cambi all'interno della Giunta, che cosa li ha generati? Guardi, intanto questa amministrazione, stranamente, devo dire, non ha avuto l'aiuto della cosiddetta fortuna, perché se lei considera la pandemia, che ha colpito un po' tutti, tutti, ma sicuramente la pandemia ha posto un freno a un'amministrazione che poteva dimostrare di poter mettere qualcosa in più rispetto, per esempio, a determinate situazioni che si facevano annualmente, tipo la Inicon e altre. Il popolo ha bisogno anche di svagarsi, oltre che pagare le tasse. Purtroppo questo non è potuto avvenire. Consideri che ci sono stati due alluvioni, due alluvioni che hanno portato un po' di sconviglio nell'amministrazione, perché qualcuno poi, chi si oppone in genere alle amministrazioni, cavalca queste forme di tigri che non dovrebbe cavalcare. E poi c'è da considerare anche che purtroppo è stato rinvenuto un disavanzo nel bilancio del consuntivo 2020 nel comune di Menfi, un disavanzo che è di 11 milioni e passa, è 600 o qualcosa, che provoca problemi anche nella spesa corrente di poter colmare una scaffa in una strada, riparare un tubo, per non dire altre cose più importanti, perché magari gli uffici poi non possono opporre la firma che autorizza la spesa, perché quando un comune ha un disavanzo, purtroppo è come un'azienda che ha debiti e non si può muovere più. Questo è il vero problema, è stato questo. E questo poi ha portato gli scompigli di quando, non so come spiegarlo, in una famiglia non si sta bene economicamente, poi a cascata succede… Quando le cose si fanno difficili, lei dice c'è il fuggi, fuggi. Ecco, non lo volevo dire, non voglio accusare nessuno di aver fatto la fuga, ma voglio premiare chi invece è rimasto, non voglio criticare, se c'è qualcuno che ha fatto la fuga magari avrà l'obbligo di chiarirla questa cosa, se la vuole chiarire, perché a oggi non sappiamo, a oggi non so e non sappiamo le motivazioni per cui si sono create queste cose, ci sono diverse opinioni, dovremmo stare qui una giornata per analizzarle tutte, però voglio elogiare chi invece c'è ancora, se mi posso permetterlo. Senta, possiamo dire anche che c'erano magari troppi galli in un pollaio, che questa giunta era… Allora, faccio i nomi e cognomi, lei è l'ex vice sindaco Viviani, personaggi di peso, questo possa avere influito anche, c'erano fatti personali oltre che politici? Guardi, no, personali non credo, guardi, tolga di mezzo le questioni personali, ma non solo con Viviani, con tutti. Con Viviani è un ottimissimo rapporto, anche adesso… Personali intendevo a livello caratteriale, chiaramente, non… No, che Viviani possa essere un politico che può guardare all'ascesa del personalismo politico, diciamo sotto gli occhi di tutti, come altri, siccome il sottoscritto non ce l'aveva, quindi non potevo litigare con Viviani, ma con nessun altro, perché guardi, le dico che per quello che mi riguarda, io ho rinunciato a certe posizioni già da tempo, lo sanno tutti in paese, negli ambienti politici, io tra l'altro il vice sindaco lo sono diventato con le dimissioni di Viviani e voglio con ciò anche sottolineare, me l'hanno detto, chissà va in televisione, i miei amici, diciamo che sono in politica, anche i miei sostenitori, mi hanno detto questa cosa la devi dichiarare, se mi posso permettere, io ho sostituito Viviani nella delega di vice sindaco, ma non prendo, ho rinunciato alla differenza di monumenti che c'è tra un assessore semplice e il vice sindaco, perché il vice sindaco ha una differenza di tra due e trecento euro, non mi ricordo adesso, dato il momento particolare che attraversa l'ente economicamente, io a questo ci ho rinunciato, quindi prendo come monumento lo stesso di quando prendevo da assessore semplice. Ma a proposito di indennità non c'era stata una polemica pure col fatto che non avevate rinunciato a parte, visto il momento difficile, ricordo male che l'opposizione aveva fungolato anche su questo. Ma l'opposizione ha fatto il suo gioco, sapeva benissimo che non funzionava così, però sa, quando le cose vengono dette dall'alto di un microfono e si spiegano in una maniera confusionaria, il popolo a volte viene claviato e pensa, noi prendiamo il minimo sindacale come assessori e tra l'altro poi c'era stata la legge che metteva il quinto assessore in giunta e per dare il monumento al quinto assessore ci siamo diluiti lo stipendio, chiamiamolo, quindi quello che prendevamo 4 con la stessa somma lo prendevano in 5, lo prendiamo in 5, quindi non è cambiato nulla, anzi prendiamo molto meno rispetto a quando eravamo 4. Senta, ma mi faccio capire, è colpa di chi se n'è andato, di chi si è dissociato da questa giunta, sa quando un matrimonio finisce di solito le colpe, sono di marito e moglie, lei mi sta facendo capire che hanno sbagliato, avevano ambizioni diverse, le responsabilità della sindaca Mauceri quali sono in questa vicenda a suo avviso? Allora, mi permetto di dire che il sindaco Marina Mauceri è un bravo sindaco, una persona che è tutte le mattine sul pezzo, come si suol dire, è sempre tra il palazzo comunale e l'ufficio tecnico. Logicamente non sono io il sindaco, quindi non mi posso dare colpe che non ho sicuramente, perché io ero uno come gli altri, sicuramente sono col sindaco, il sindaco è nello stesso partito dove milito io nello stesso movimento, il sindaco è vicino alle posizioni dell'onorevole Di Mauro, lo sanno tutti, anch'io lo sono da 20 anni, quindi probabilmente anche questo mi lega un po' di più rispetto agli altri. Un feeling politico. Un feeling politico e sicuramente sarà questo che mi ha permesso di essere più sereno nell'approccio politico e anche di non avere la malattia del futuro. Io parlo di malattia, quando parlo di malattia dico che è una malattia virale, che cosa mi chiedono? La sindacchite, per cui non avendo la sindacchite io sono stato al mio posto. Parliamo di sindacchite, perché è l'anno delle elezioni, chiaramente dovrei chiederlo alla sindaca, però lei mi ha appena ricordato la vicinanza politica, ci sarà una sua ricandidatura? Ne avrete parlato sicuramente? Il sindaco a oggi non ha assolto nessuna riserva, né se si ritira, né se si ricandida e dice sempre, lo sanno tutti, che lei lavorerà fino all'ultimo minuto per la sua città, per la nostra città. Cercherà di portare a termine, ci sono alcuni progetti sensibili, fondamentali, parlo del costone di Portopalo, della frana che mina le basi anche della nostra torre di Portopalo, in più anche quel problema che tutti sanno delle aziende che sono chiuse. Adesso ne parleremo nel dettaglio. E in più c'è anche l'erosione della costa, che è un progetto che siamo lì, non lo vorrei dire, ma anche per scaramanzia, per essere messo in atto. Stanno finendo il progetto definitivo, proprio questione di qualche giorno, quindi si passerà la gara. Almeno questo è quello che è dato di sapere. Quindi il sindaco dice finito, spero di portare a termine questo. Dopodiché il sindaco sceglierà la riserva e se eventualmente noi, che siamo dell'MPA, parteciperemo a un tavolo politico con altri, a un tavolo che porta alle prossime elezioni, il sindaco, penso che arriverà là e dirà se si sente ricandidabile oppure no. Ma adesso questo discorso non si è preso, anche perché noi stiamo governando e altri stanno pensando al futuro, ma non è che c'è ancora chissà che, gli altri sarebbe ancora la minoranza. Sì, in realtà non c'è ancora la data delle elezioni, ma è certo che lì sarà maggio-giugno, quindi lei dice c'è ancora tempo. Non c'è tanto tempo per costruire poi un progetto politico, a meno che il sindaco e l'MPA non vogliano andare da soli. Ma questo penso che non si possa fare perché siamo nel maggioritario. Penso che si formeranno due fazioni e sicuramente l'MPA ci sarà, perché io le dico questo, se mi posso permettere. Io penso che chiunque voglia governare il futuro di questa città deve pensare a ricostruire la parte economica, perché questo disavanzo si deve… io penso che tra non molto saremo chiamati tutti a capire se possiamo fare un risanamento o fare un fallimento, perché ci siamo vicini a questo. La città capirà che c'è stato un problema economico nella nostra città, quindi i cittadini non lo capiranno. Quindi chi deve governare? Sicuramente se fossimo stati a Roma avremmo parlato di un governo di unità nazionale. Io non so se a Memphis si possa parlare di un governo, una giunta di unità di paese, di Memphis diciamo. Quindi a quel punto dovrebbero entrare in gioco le migliori forze e penso che l'MPA, se mi posso permettere, avendo l'unico assessore regionale in giunta della provincia di Agrigento, penso che possa e debba farne parte e deve essere usato questo assessore per portare avanti le tematiche del nostro paese. Quindi l'MPA penso che farà parte di una delle due fazioni che concorrerà al governo della città. Adesso poi si vedrà se con Marina Mauceri, senza Marina Mauceri, prima lo stabilirà lei e poi si vedrà nel tavolo. Ma non si potrà andare da soli. Questo poteva succedere se c'era il proporzionale. L'altra fazione potrà essere quella di questo movimento che si è costituito di recente, 92-0-13, ricordo bene il cap di Memphis, che ne fa parte il consigliere Vito Clemente e si parla anche di lui come probabile candidato a sindaco. Il consigliere Vito Clemente ha le carte e regole per potersi candidare, lo ha già fatto anche la scorsa volta, era uno tra i papabili candidati, poi andò a finire e il candidato era il dottore Ferraro. Anche adesso lui è uno tra i candidati. Tenga conto che il 92-0-13 per adesso coincide con l'idea Memphis, cioè con la minoranza. Non ci sono forze nuove, parlo di forze già in campo, perché probabilmente c'è qualcuno della società civile che si sarà avvicinato. Però nessuno vieta che nel maggioritario si possano ricomporre, lo ripeto, forse che hanno a cuore la nostra città, forse che si sentono di prendersi in mano questa patata bollente, perché di questo si parla, perché guardi non ci sono più impiegati all'ufficio tecnici. Sì, adesso ne parliamo. Politicamente le chiedo, no, 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 perché poi entriamo nel merito delle problematiche, politicamente le chiedo un progetto civico che sia espressione di movimenti, di associazioni, di cittadini, può andare avanti poi nei cinque anni o la politica, comunque i partiti devono metterci la faccia. Mi sembra che già io l'ho detto, io penso che la politica ci debba essere. Ma spesso si nasconde dietro i progetti civici nella candidatura. Ma questo quando c'era la paura di fare ciò, adesso se mi posso permettere, a Roma governa il centrodestra, a Palermo governa, alla Regione governa il centrodestra, perché il centrodestra deve avere paura di essere in una delle due coalizioni o essere un po' di centrodestra da un lato e un po' dall'altro lato? Adesso se mi posso permettere, guardi, c'è anche il PD, per esempio guardo io all'Avvocato Andrea Pellegrino, che è il Presidente del Consiglio che c'è adesso e che è amico dell'Onorevole Catanzaro. L'Onorevole Catanzaro non è un'opposizione a tutti i costi e lo vedo anche come ex-democristiano e che tutti provengono dall'essere governativi. Quindi penso che le forze si possono mischiare. Poi se uno è PD non si possono fare le liste di partito, perché voi siete abituati a Sciacca, a fare il proporzionale, ma a me ora è maggioritario. Prima era così, adesso che è maggioritario ci possiamo mettere assieme poi ognuno con le proprie rappresentanze. Quindi noi per esempio siamo molto vicini a Fratelli d'Italia di Menfi, a Peppe Mauceri e penso che siamo molto compatibili per andare assieme, ma compatibili anche con altri. Nulla vieta, guardi, di parlare con Vito Clemente anziché con Santoro con l'Avvocato La Plaga, anziché con il Dottor De Ferraro, con tutti. Penso che tutti si debbano mettere in testa che per la prossima volta c'è una patata bollente. Lo ripeto, non sono più i tempi delle vacche grasse che uno fa chissà che cosa a Menfi. A Menfi bisogna sbracciarci, perché guardi, se il sindaco Mauceri è stato criticato, è stato criticato perché non ha avuto i soldi da spendere purtroppo. Non è criticata la persona. perché chiunque al posto di questa amministrazione non so se avesse fatto meglio o peggio, perché questo è un problema economico. Lo sa come si diceva una volta, i soldi fanno venire la vista ai ciechi. Con i soldi tutti diventiamo bravi, guardi. Senta, però parliamo di candidatura a sindaco, lo sa, nei salotti televisivi si fanno ipotesi. Saverio Ardizzone potrebbe essere il candidato a sindaco di un progetto quanto più ampio possibile? Quello che lei ipotizzava appena pochi minuti fa. Lei è stato candidato a sindaco, se non ti porto male? Sì, io ho perso. Io dico sempre l'idea mia ha perso già da tempo. Guardi, io le rispondo in questa maniera. Saverio Ardizzone è deciso a comportarsi da soldato per governare questa patata bollente. Io sono pronto a candidarmi al Consiglio Comunale con una coalizione che guarda a portare Menfi di nuovo a come era una volta, come da sempre voi avete guardato la nostra cittadina. Per fare ciò io sono deciso anche a fare il soldato semplice. E il generale lo esclude a priori? No, perché guardi, da soldato semplice i soldati vanno in rincea. E siccome io ho capito ho capito che oggi i sindaci debbono essere le persone che portano innovazione, io mi sento di essere un soldato. Senta, ma dall'altro lato si potrebbe dire che non vuole assumersi le responsabilità fino in fondo. Non è vero, io sono il vice sindaco oggi dell'amministrazione Manocieri e mi assumo la mia responsabilità e mi assumerò quella di dopo e non ho paura di andare davanti a chi che sia in un palco, in un comizio a rispondere alla città. La città sa, guardi, la città sa chi sono le persone, la città sa chi fa del bene e chi non fa del bene, la città sa se uno è predisposto per un certo modo di fare politica. Io mi sento la politica nel sangue, mi sento di dedicarmi alla mia città, l'ho fatto fino adesso, ero candidato sindaco, ho perso l'elezione al sindaco, non è che, sa, mi consenta di dire questa cosa, c'è sempre quella cosa di dire, ah io ho fatto il sindaco, ero candidato a sindaco, ora non è che posso fare il consigliere, non è che posso fare l'assessore, invece no. Se uno è veramente innamorato della politica e del proprio paese, si deve mettere a disposizione. Io sono a disposizione, guardi, al sindaco, ho già dato il mio contributo da candidato, ma guardi, io ho perso l'elezione, l'ho già detto, ma la mia città me lo dimostra giornalmente, io amo la mia città e la mia città ama me. Comunque per cinque anni ha amministrato, da assessore, da vice sindaco ora, quindi entriamo nel merito delle questioni, lei ne faceva cenno alla situazione economica difficile, legata a questo disavanzo, ma verrebbe da dire, ma è colpa dell'amministrazione, non c'è se si è determinato. Pure se piove, ah! No, se i conti del comune non sono a posto. Io lo spiego, guardi, se mi posso permettere, anche se lei è in gamba e sa capire le cose, allora, il disavanzo è nato col consuntivo 2020, è stata una sorpresa anche per noi, perché è praticamente nel 2015, se posso spiegarlo in una maniera grossolana, per farlo capire, come Massimo D'Antonio mi dice sempre tu sei bravo a farlo capire con gli esempi, allora nel 2015 è cambiata la legge sui bilanci dei comuni, si parla di armonizzazione dei bilanci, se ho capito bene. Quindi determinati modi di compilare i bilanci che si facevano antecedenti al 2015, dal 2015 ad adesso non si possono fare più. E cioè, faccio un esempio, se si ipotizzava un'entrata nel bilancio comunale, cioè tu pensavi che attraverso una tassa, parliamo che sono di tari, di qualsiasi tassa comunale, facevi un conteggio che doveva entrare X soldi, facciamo conto, un milione di Euro, potevi in uscita posizionare questo milione di Euro. Quando poi tu andavi all'anno che facevi questo bilancio… E in realtà ne incassavi 500? 500 era disavanzo. Siccome prima si poteva portare il disavanzo fino a un certo punto, praticamente si è arrivati a un punto che nel cambiare la legge ci si è trovati, ci si è accorti nel consultivo dei momenti, perché si è perso un po' di tempo, alcuni degli uffici sono andati in pensione, poi ci fu la questione dell'assessore che si dimise, l'assessore del bilancio. Quindi abbiamo scoperto questo disavanzo di circa 12 milioni di Euro. Questo disavanzo non sono soldi, perché qualcuno diceva che si sono rubati i soldi, io devo dire la verità, non se ne è rubati nessuno i soldi. Il disavanzo sono soldi che il Comune ha speso e può darsi anche in maniera buona, ma che non erano mai entrati per poterli spendere, quindi si chiama buco. Di bilancio. Chiamiamolo buco. E però viene da dire, ma scusi, queste regole erano per tutti i comuni, perché il buco si è prodotto a menzio e non a sciacca rispetto a... Evidentemente qualcuno prima in precedenza aveva procurato questo, non so cosa dirle, io non voglio accusare nessuno, ma il dato di fatto è che a oggi non c'è più polvere sotto i tappeti, quindi tutto pulito e questa è la somma. Mentre a Palermo, a Catania hanno fatto il Salva Palermo, il Salva Cala, sono città, per noi oggi non l'ha fatto nessuno. E mentre come può uscire da questa vicenda? Può uscire se il Consiglio Comunale, perché io penso che questo Consiglio Comunale che c'è adesso fino alla scadenza debba decidere se fare un piano di rientro o un default, come si dice, come dicono gli inglesi, insomma il fallimento, per capirci. Se tu fallisci... Che poi comporta conseguenze per il futuro. Conseguenze anche certe cose non le puoi fare. Quindi per il futuro sindaco anche. Guardi, lei pensi che noi abbiamo due persone che hanno vinto un concorso, non lo abbiamo potuto assumere. Abbiamo un grosso problema anche dal punto di vista legale di capire perché questi che hanno vinto, nonostante c'erano i soldi, non li possiamo assumere. C'è un continuo discorso e tra l'altro abbiamo anche problemi nell'ufficio idrico, l'ufficio manutenzione, l'ufficio tecnico, insomma in tutti gli uffici. Lei pensi che non possiamo mettere ore in più per fare lavorare in maniera decente ex articolisti oggi che sono stati stabilizzati per farli lavorare più serenamente? Non possiamo metterli. Lei pensa che se io avessi potuto mettere, io o l'amministrazione Manuceri, queste ore non le mettevamo, se potevamo assumere non le assumevamo. Abbiamo seri problemi, seri problemi. Ma lei pensa che il consiglio comunale di Menfi su questa vicenda troverà una sintesi per superare questo problema economico? Consiglio comunale che io ricordo è sempre stato molto vivo, dove la polemica politica, non dico al pari di sciacca, ma quasi lì siamo. Guardi, la polemica si fa e deve esserci perché è il sale della politica anche, dico io, avere differenze di opinioni. Però in questo caso penso che abbiamo tutti il dovere di capire se questo disavanzo lo possiamo colmare vendendo qualche gioiello che non è più gioiello di famiglia, perché praticamente quando tu proponi un piano di rientro deve essere credibile, come quando tu hai un debito la banca ti chiama e dice senti tu devi rientrare e tu gli dici io posso darti 1000 euro al mese. Ma questo piano di rientro l'amministrazione Moceri lo ha predisposto, lo sta predisponendo? Allora noi intanto siamo gli uffici, perché noi quando diciamo noi parliamo amministrazione, ma gli uffici stanno cercando di predisporre il bilancio intanto 2021. Siccome c'è un commissario, io non so se il commissario è al punto dello scrivere, di decidere, come il piano di rientro o il default lo decide il Consiglio Comunale e lo decide su che cosa. Noi siamo in grado di rientrare 12 milioni o quantomeno negli anni un milione all'anno, se capiamo che lo possiamo fare e lo proponiamo, perché poi si propone agli enti preposti e gli enti preposti lo accettano, andiamo avanti, ma dobbiamo essere tutti uniti. Ecco perché le dico serve un governo cittadino di unità. Io faccio questo appello, serve un governo di unità. Non so se chiamarlo qualcuno ogni tanto dice un governo dei migliori, io non lo so se sono un miglior. Lei dice che la situazione è talmente critica che qui non ci possiamo permettere altri cinque anni di divisioni e di scontri. Sono d'accordo con quello che sta dicendo lei. Ma lei lo sa che non è una cosa facilmente realizzabile. Ma sa, lo dico, lo sa perché, perché nessuno può pensare, lo dice perché si vuole candidare al sindaco, quindi lo dico io perché non sono candidato al sindaco. Lei lo dice tra l'altro perché chiunque sarà questa situazione si ritroverà a dover gestire. Quello che dico non può fare accusa a nessuno, sa perché tutti, tra quelli che vogliono governare, sono stati in politica da 25 anni a venire qua. Quindi un po' di colpe tutti, tra virgolette, le possiamo avere. Dico io potrei dire in un altro modo, ma voglio dire, mi voglio mettere, come si dice, nel sacco assieme ad altri. Quindi bisogna solamente ricostruire perché le accuse fanno male. Non c'è bisogno di fare accusa a nessuno, ma bisogna guardare avanti. Guardi, io ho fatto una battuta e qualcuno ci ha scherzato sopra, forse non l'ha capita. Io ho detto che Papa Francesco, infatti mi sfottevano, dice Papa Saferio, Papa Francesco è andato a chiedere scusa in Canada per la Chiesa, ma non erano colpe che aveva fatto lui, che aveva, diciamo, non apparteneva al suo papato. Ma quando tu gestissi un'amministrazione, tu chiedi scusa alla città, magari per colpe che tu non hai. Senta, lei ora non è che si deve dipingere come un santo, perché lei è bravissima a provocare anche l'opposizione o comunque a rispondere. L'ultima delle polemiche è stata legata alla vicenda Portopalo, la frana, la protesta del commerciante Scirica. Lei non ha perso tempo a rispondere a Scirica, che vi ha un po' accusati e dire, beh, avete fatto un anno di chiacchiere, se io non protestavo la vicenda non si risolveva. Ed è così, no? Ascolti, purtroppo a volte ci sono delle coincidenze. Le spiego. Intanto manifesto qui la solidarietà a Peppe Scirica, è un amico d'infanzia, un amico del liceo, un grande amico dove tutti noi andiamo a Portopalo, altri, io non fumo più da tempo, altri a comprare le sigarette, a non comprare la birra, capita, Peppe come stai? Allora, Peppe Scirica sa quanto impegna ha messo Marilena Mauceri, il sindaco e altri, è l'onorevole Di Mauro e devo dire anche altri, perché poi si sono trovati anche l'onorevole Pace, quando Marilena è andata da Croce, il commissario, c'era anche Pace che era intervenuto, poi andò via perché era tardi e so che ha fatto un intervento anche l'onorevole Larrocca al Ruvolo, eccetera. Però questi appuntamenti già erano presi da tempo, sicuramente c'è stata un'accelerazione, perché quando la politica vede, non la politica Menfi, la politica Palermo, Roma, vede che c'è uno sciopero della fame, c'è la TV, c'è il RAI 3, ecco magari dicono ma noi ancora dobbiamo perdere tempo, ma noi, se lei conosce bene il procedimento, fare accusa a questa amministrazione è stata un po' tendenziosa, perché Peppe Scirica sa che c'è stato da parte nostra l'impegno. Poi se determinate cose, se per esempio la delibera del Presidente Musume, la delibera aggiunta del governo Musumeci, poi non è andata a Roma e le 370 mila Euro non erano messe, ma c'erano scritte solo sulla carta, dico di chi è la colpa? Nessuno ha voluto prendere… L'amministrazione avrebbe potuto essere più incisiva nei confronti della regione? È stata incisiva, è stata incisiva, ma poi ci sono state le elezioni, c'è stato una vacazio amministrativa, noi siamo stati non incisivi di più e lo sanno tutti, sono venuti tutti gli enti preposti qua, protezione civile, igieno civile, tutti. Noi abbiamo avuto purtroppo, da questo punto di vista dell'alluvione, perché tutti sanno che quel promontorio era a rischio dagli anni 50, c'era anche un decreto del Presidente della Repubblica, dico non voglio accusare nessuno, ma se non ci fosse stata questa frana, come da sempre nessuno avrebbe messo mani su questa frana. Senta, adesso siamo arrivati… Ora la sfortuna, la posso dire, purtroppo l'alluvione ha colpito chi? L'amministrazione Musumeci. Tra l'altro ricordiamo che non è solo la problematica del commerciante, ma anche famiglie che non possono tornare. Allora facciamo un po' il riepilogo, questa vicenda è superata, cioè si metterà in sicurezza? Sembra, accorti, sembra superata, nel senso che c'è stata la promessa del commissario del dottore Croce, che ha il Presidente Schifani in persona, che hanno messo 500 mila euro. siccome rispondono al governo nazionale, perché anche il governo regionale ha problemi sulla finanziaria, sul bilancio, ma non pensi che se Menfi si sparta così… Ma questi 500 mila euro sono sufficienti? Il progetto è pronto? 500 mila euro non sono sufficienti a risolvere definitivamente la frana, sono sufficienti a poter spostare la parte di frana che non si può toccare perché dicono che è messa a puntello dell'altra terra che c'è sopra, quindi per poter togliere questa parte di fango che c'è che occupa la strada e poter far rientrare le persone in casa e aprire il tabacchino, aprire il genere alimentare, il minimarket, bisogna mettere e fare dei terrazzamenti e sistemare questa prima parte per poter risolvere il problema del tabaccaio, del minimarket e delle persone che vanno a casa. Dopodiché c'è un impegno per il progetto definitivamente. Ma il progetto, quello che nell'immediato risolverà un minimo il problema, è pronto? Pronto, è pronto perché… Siamo sicuri, giusto? Non è che ora abbiamo i soldi e poi il Comune non ha ancora elaborato il progetto. Il Comune ha dovuto ricorrere a dicembre a somma urgenza per dare l'incarico ai geologi, sono due geologi, uno di Menfi e l'altro di Foto, non mi ricordo, che hanno messo insieme, hanno avuto questo incarico e che stanno completando assieme a un altro progettista, perché le ricordo, lo ricordo perché lo scordano, che già c'è stato un primo intervento nella curva, dopo la frana, c'è stato un primo intervento perché stava scivolando la curva e diciamo diventava pericoloso anche per le altre abitazioni che davano sulla curva, quindi lì un primo intervento di 300 e passano in euro c'è stato, ora ci deve essere questo… La tempistica di questo intervento quale potrebbe, chiaramente per l'estate 2023 è difficile? Allora si presuppone che per l'estate dovrebbe essere il tabaccaio, il minimarket aperto e le persone in casa, mi creda per me è una tragedia parlare di questa cosa, perché stiamo parlando di cose che nessuno avrebbe voluto vedere e avere… Tra l'altro parliamo di una località a Portopalo che è sempre stata il fiore all'occhiello per Menfi, Barriera Blu… Lei pensi che noi come amministrazione siamo stati con le mani in mano su questa tematica? Guardi, non dico giornalmente, ma il sindaco è stato sul pezzo tutti i giorni, è andato a Palermo 100 mila volte, lo sanno anche gli abitanti che ci sono state delle riunioni, tant'è che sembrava tutto risolto con quella delibera del governo musulmane, però poi invece non si era dato seguito. Passiamo ad un altro argomento che da sempre è oggetto di invidia di tutti i comuni che sono alle dipendenze ora di Aica prima di Girgenti Acque, cioè la gestione diretta delle proprie reti idriche da parte di Menfi, Menfi che portò avanti una battaglia, io me lo ricordo con manifestazioni con pistola d'acqua, voi siete stati capaci di difendere quello che ritenevate un vostro bene e però comunque c'è una vicenda dei contatori delle tariffe che ancora mi pare che non è stata risolta, cioè in tutto il mondo si paga a consumo, a Menfi non funziona proprio così. Lei lo sa che quando qualcuno cambia le abitudini di un popolo, il popolo un po'… Eh sì ma prima o poi… Allora intanto dovremmo dire che i cittadini di Menfi per moltissimi anni hanno risparmiato un sacco di soldi di acqua. Quanto è che paga una famiglia media a Menfi di 4 persone? Noi siamo forse di 200 euro all'anno. 200 euro l'anno, giusto per ricordarlo, non sono consumi, a meno che voi non siate e parsimoniosi e non rincredo. Il problema è questo, il problema è che adesso siamo arrivati al conto alla rovescia. Il conto alla rovescia significa che la polemica dei contatori è una polemica di lana caprina, perché qualcuno o altri che volevano inficiare sempre chi governa hanno messo in mezzo il discorso dei contatori. Ora, lei consideri che il servizio idrico, cioè gli impiegati del servizio idrico, sono sempre di meno, come l'ho detto ci sono due che hanno vinto il concorso e non li possiamo assumere. Allora oggi che bisogna vedere se questi contatori possono leggere il vero consumo dell'acqua, questo avverrà nel 2024, alla prima bollettazione del 2024 vedremo che bollette arrivano, perché la tariffa non la decidiamo noi, la decide la Rera. Tra l'altro l'ATI vi ha imposto di un regime proprio a consumo e non forfettare, non è che voi ci siete arrivati di vostra volontà. No, ma ascolti, non sono cose regolate da noi, noi chiederemo, sicuramente faremo un regolamento nei limiti della Rera che può fare risparmiare la signora che abita da sola, che è anziana, come avviene in tutti i posti, cercheremo di portare la tariffa al minimo sindacale, questo è chiaro. Dopodiché per leggere questi contatori ci vogliono gli uomini che vanno a leggere, oppure siamo nel 2000, adesso è il 2023, se qualcuno riconosce di non avere un contatore che funzioni, bene, anche per agevolare si diceva, perché gli obblighi sono fino a un certo punto, però se c'è un contatore moderno di questo che può essere letto col tablet passando la macchina dalla strada e legge il consumo, agevola anche gli uffici e in più sono contatori che riescono a non leggere l'aria. Senta, ma in qualsiasi sistema Menfi deve mettersi in regola, le ripeto, è una delibera in regola, forse mi spiego male io, Menfi è in regola, perché Menfi… Ma c'è ancora qualche contatore che non funziona o che… Ma guardi, è stato fatto un avviso dal sindaco che ha chiesto ai cittadini di controllare i propri contatori, chiamare il proprio idraulico di fiducia, perché questi contatori ci sono, però non sono mai stati letti, perché sì, la bolletta è a forfè, è una cosa strana, perché siamo stati in un momento di vacazio anche da questo punto di vista, perché non abbiamo consegnato le reti, siamo stati, tra virgolette, ribelli, abbiamo fatto bene… Siete stati premiati, tra l'altro della legge, nel senso che è stato riconosciuto… Ascolti, noi siamo, guardi, Sciacca, prima aveva un ente, poi un altro ente, ci sono città che hanno sempre pagato la bollettazione a consumo o a uno o a un altro, ma l'hanno sempre pagata, noi ce la siamo sempre gestita noi, dai tempi dei tempi, per cui questo fatto ha fatto sì della difesa a oltranza delle nostre reti, dei nostri procidi… Quello prescinde dal… Adesso viene il difficile, questo io lo riconosco, ma io l'ho detto… Quello siete legittimati a farlo, però non a pagare… Adesso viene il difficile, e io lo dico tranquillamente, viene il difficile perché qualcuno non ha capito che è nel fare la battaglia… Che è finita, che è finita la faccenda della tariffa a forfè… E dobbiamo andare a pagamento a consumo, nell'andare a pagamento a consumo, a qualcuno gli sembra che l'amministrazione, ma lo serio, sta facendo una cattiveria, vogliono privatizzare l'acqua… No, no, è per legge… Lo prevede la legge… È per legge, lo dico ai miei… Se non la fate, siete in difetto… Se la riprendo, siamo in difetto… Capiamoci, ecco… Va bene, ascolti… Però già abbiamo risparmiato per tanti anni… Eh, con invidia lo dico… Eh, lo so, lo capisco… Lo capisco… Le 200 euro li paghiamo magari in 4-5 mesi, non vado oltre… Senta, però un risultato… Parliamo anche di cose positive… Memphis, città del vino 2023, dico, la prima città in Sicilia, ricordo bene, la terza in Italia da quando è stata istituita… Che cosa comporterà questo? Secondo me questo è un grande trampolino di lancio per il nostro territorio, ma io lo dico anche agli amici di Sciacca, se non quelli di Ribera o della Costa del Mito, come si dice adesso da Selinunta ad Agrigento e anche, diciamo, delle terresicane, perché ricordo a noi che il sindaco Ciaccio di Sambuca è il presidente delle città del vino siciliane, poi c'è Gorisparacino, insomma c'è la fondazione Inicon messa in campo e anche adesso l'Avvocato Ogni Bene che è un esperto di vini che sta cercando di darci una mano, insomma tutti assieme possiamo rilanciare il nostro territorio, non solo Menfi, parliamo, ripeto, di tutto il territorio che attorno a Menfi, Menfi nel cuore delle terresicane della provincia di Agrigento, può dare una spinta tramite il vino a una spinta turistica, perché le ricordo che purtroppo manca, una volta si diceva Sciacca era il terzo polo turistico, perché c'era Tavormina, Cefalù e Sciacca, adesso bisogna dire, andiamo nella Costa del Mito, dove vai in vacanza? Alla Costa del Mito, c'è chi dice quest'anno vado alle Cinque Terre, ma che cosa è le Cinque Terre? Non dice il nome del paese, quindi se noi riusciamo… Uscire dall'ottica di paese per promuovere un territorio… E Menfi può essere da Traino anche con questa necessità? Non solo da Traino, ma assieme, guardi Sambuca ha fatto un bel lavoro, è inutile nasconderci di un dito, poi c'è la parte culturale di Santa Margherita, anche Montevago sta lavorando bene, Sciacca sembra che ha una nuova vendata di freschezza con questi giovani nuovi che sono al governo per ora, con Menfi, Ribera e tutti gli altri fino ad arrivare ad Agrigento, da Castelvetrano ad Agrigento, possiamo assieme creare una condizione, scegliere questa vetrina per un anno, Menfi sarà in vetrina tramite il vino, perché questa è una vetrina importante, ci saranno un anno di eventi e adesso stiamo cercando di… dovremmo incontrare il Presidente della Regione per capire come muoverci assieme a loro, a cominciare anche dal Vinitaly alla Borsa del Turismo, alla BIT e tutto il resto dove dobbiamo cercare di farci vedere, va bene? E anche le attività che stanno attorno a questo argomento, vediamo le cantine, la Sette Soli, Planeta, Barbera e queste altre cantine da Cellaro, insomma, che ci stanno assieme e possiamo vedere se possiamo attraverso questi eventi fare conoscere il nostro territorio, questa è la sfida. Parlando proprio di promozione del territorio e di turismo, lei diceva poco fa Sciacca in passato, Sciacca in passato aveva le terme, terme nelle quali lei ha lavorato come medico, quindi allora io glielo chiedo un commento anche alla luce del fatto che è svanito anche il sogno di Cassa Depositi e Prestiti, perché lei sa sicuramente che si è tentata questa strada, c'è un possibile investimento di Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito dei fondi del PNRR, invece abbiamo scoperto che né le terme di Sciacca né quelle di Acireale hanno discorso interesse da parte di Cassa Depositi e Prestiti, probabilmente perché l'investimento si sono resi conto che era parecchio oneroso. Le chiedo che cosa erano le terme e quali sono le responsabilità di averle portate in questo Stato? Lei mi colpisce al cuore, non so se si capisce, sono molto costernato di questo argomento perché sono stato quasi 11 anni come medico a lavorare alle terme di Sciacca, avevo trovato la mia casa adatta al mio modo di lavorare, perché sono notorino a Ringoiata come lei ben sa e in quel posto noi curavamo bambini e persone, curavamo, attenzione perché adesso sto per dire una cosa importante che ho detto tanti anni fa in una tavola qua in una giostra, non mi ricordo cosa era, con Massimo D'Antoni e lo ripeto perché ieri ho avuto una discussione con l'assessore Gianluca Fisco, giusto? Fisco, vice sindaco, perché l'ho chiamato io perché ho saputo questa cosa della Cassa Deposita e Prestiti e mi sono permesso, veda mi ha trovato proprio in freschezza su questo e ho detto questo, le terme di Sciacca e sanità, perché qualcuno scambia le terme come posto per andarsi a divertire, anche, però è un posto per curarsi, ci sono persone che ritrovavano la salute in quel posto andandoci di anno in anno, perché le terme sono come la palestra, lei i muscoli li vede spuntare dopo 4-5 anni che va in palestra, è lo stesso lì, l'effetto delle terme lei se ne accorge dopo anni che fa le cure, diciamo cicli di cure di anno in anno. Io dico questo e io l'ho detto al vice sindaco a Fisco che si occupa di questa cosa, ho detto guarda, intervenite subito, andate dall'assessore Volo, dal Presidente della Regione e dite se lo stabilimento termale, io lo dico in maniera brossolana, se lo stabilimento termale lei lo immagina come un reparto dell'ospedale di Sciacca, immagini questo, la direzione sanitaria è dell'ospedale di Sciacca, alle terme si andava a fare le cure con la ricetta, in convenzione, quindi se tu vai in convenzione con l'ASP, perché la Regione vista che è proprietaria non lo può dare all'ospedale, essendo proprietaria, isola lo stabilimento dall'albergo, dai giardini, dalle piscine, dai molinelli, da tutto il resto e lo consegna all'ospedale, recuperi caldaie, tubazione, perché con lo zolfo queste cose si distruggono, è più del sale, dopodiché ripristini la fangaria. Ma questo investimento chi lo dovrebbe fare? La Regione? La Regione, ma non è un investimento dell'immobile, non compri l'immobile, perché già la Regione è proprietaria dell'immobile. E però investire per ristrutturare, riqualificare, riprendere anche tutte queste apparecchiature è ugualmente vero? Ma non è lo stesso di riprendere l'albergo, le piscine, tu riprendi lo stabilimento, piazzi là, infermieri, medici che fanno le cure, che fanno i fanghi, che fanno le cure inalatorie, fanno gli esami di otorino-aringoiagia, fanno le insuffrazioni endotimbaniche, gli otorini, puoi anche, diciamo, può anche avere un primario che è il primario dell'autorino-aringoiagia in quel reparto, stiamo attenti, è sanità. Ma quindi lei, la sua idea è quella di ritornare alla vecchia funzione delle terme di sciacca, cioè solo sanitaria, mentre qui abbiamo parlato di termini in termini di turismo, turismo del benessere, poi. Ma poi, il turismo del benessere, è perché tu ti viene, scusi, lei non sa che dalla Sicilia si vanno a curare all'estero o al nord, diciamo, cure di un certo tipo. Sì, c'è ancora, certo. Alle terme di sciacca venivano quelli dall'estero e persone anche dal nord per farsene cure inalatorie, perché le terme di sciacca sono le acque solfure più cariche di zolfo che ci sono in Italia, glielo dice il dottor Artizzone. Più cariche di quelle di Sirmione. E le dico un'altra cosa, Sirmione in bottiglia, l'acqua, sciacca no, Tabbiano pure, sciacca no. Quello lì bisognava, ora, se non c'è, io non è che sto dicendo che si deve fare così, che era l'unica strada, ma se quella strada non è percorribile, l'altra no, la cassa deposita e prestiti no. Quanto meno. Fare ripartire le terme significa fare affittare le case che si affittavano prima, fare ripartire l'indotto che c'era sulle terme. Dopodiché, se l'albergo lo vuole mangia o lo vuole Roccoforto, glielo dà. Cioè, vende l'albergo, scusi, l'albergo, ma non le terme. Le terme è una cosa… Quindi lei dice, riassumo, lo stabilimento è lì e bisogna solo rimetterlo in funzione per destinarlo a cure sanitarie. Le chiedo, il Servizio Sanitario Nazionale non copre più come faceva prima questo tipo di cure. Perché? Perché prima le cure… Non c'era più la convenzione come c'era in passato che consentiva… 2015, quando hanno chiuso e ci lavoravo io. C'era la convenzione. Tu, cittadino, avevi diritto a un ciclo di cure di 12 giorni di cure termali. Quindi se tu avevi la sinusite, avevi diritto una volta all'anno a fare questi 12 giorni di seduta e di cure per la sinusite. Lo stesso per l'otite catarrale, lo stesso se avevi patologie reumatiche. Lei pensa che tutte le patologie articolari, i dolori articolari e cose, venivano alleviati da la terapia dei fanghi. Quindi se tu, per esempio, lì in quel posto c'è chi si occupa delle malattie reumatiche, può adoperarsi per questo tipo di terapie. Quindi lì tu eri in convenzione fino al 2015. Si tratta di ripresinare anche queste convenzioni? Oppure a pagamento, ma perché lei non ne conosce ambulatori all'ospedale o chi fa l'intramenia che si paga. Lì venivano anche, c'era lo Torino, guarda io mi voglio fare una visita da lo Torino. Lei dice che intanto si riaprirebbe lo stabilimento, poi albergo, piscine, si fa lo spezzatino, sono appendici, perché se tu nell'albergo poi, il turista che va all'albergo all'hotel di Sciacca, al Grand Hotel delle Terme di Sciacca, gli dai la possibilità di entrare gratuitamente alle terme. È giusto, e in più lì poi loro fanno i sassolini, la spalla, le cose, la fanno all'albergo. Lei la chiusura delle terme l'ha vissuta, era là. Ma io l'ho vissuto sulla mia pelle e sono stato anche male. Ma quali sono state le colpe di questa città, di questo territorio? Perché poi le terme erano sì di Sciacca, ma di un territorio. Dove abbiamo sbagliato nel considerare quella delle terme la battaglia solo dei dipendenti che ci lavoravano? Guardi, io non l'ho capito, perché io so che venne Crocetta, mi pare, alla villa e disse che avrebbe messo i soldi nel bilancio per risanare. Poi non so perché dopo dieci, quindici giorni questa cosa la cambiò l'allora Presidente Crocetta. Quando c'era Turriciano, l'ultimo commissario delle terme che io conosco, disse, diceva alla Regione scusate, ci sono tutti questi impiegati qua alle terme che sono impiegati regionali. Perché non mi li scorporate dal bilancio delle terme? Le terme pagava anche l'impiegato regionale che avrebbe dovuto pagare alla Regione. Dall'altro oggi la Regione paga gli impiegati che sono andati all'ufficio collocamento, in altri uffici agrari e cose, insomma, questi qua vengono pagati gli stipendi dalla Regione. Ma se tu li pagavi anche mentre erano là, non facevano carico sul bilancio delle terme. Quindi questo gravava pesantemente, perché Turriciano diceva se io non pagassi questi dipendenti o questi dipendenti vanno a lavorare negli uffici regionali e io prendo gli stagionali, il bilancio, questa era la teoria di Turriciano, io dico aveva ragione. Quindi la spesa, perché parliamoci chiaro, le terme di sciacca, le terme si fanno nei periodi caldi, poi c'erano due o tre mesi, le terme per manutenzione chiudevano, perché logicamente chi fa le terme viene anche in vacanza. E quindi il periodo freddo, chiudevano quei due o tre mesi e si facevano le manutenzioni. Quindi tu che prendevi gli stagionali risparmiavi questa componente di stipendi o magari poi prendevano la disoccupazione, non lo so. Dico questa è la parte economica, però io dico come medico che le terme sono importantissime. Lasciando la parte economica, la responsabilità politica, la volontà di chiudere queste terme, le terme di non risolvere la situazione economica e gli altri aspetti, c'è stata a distanza di anni. Lei mi chiede una cosa dalla sfera di cristallo, io non me la sono fatta l'idea, le dico solo questo, sono fermo a crocette doveva mettere i soldi e non so perché si è tirato indietro, aveva fatto una promessa, io ricordo questo episodio, me lo raccontarono noi saccensi che lavoravano le terme, è venuto il Presidente e ha detto… Sì, ma la decisione fu presa da un giorno all'altro nelle stanze della regione, degli uffici, di chiuderle. Non lo so, guardi non so quali poteri forti possono avere agito a fare chiudere le terme, ma devono essere dei pazzi, come qualcuno che vuole male al bene, solo il male può… Senta, hai visto che a me le battaglie avete dimostrato di saperle fare, noi invece questa non l'abbiamo proprio ingaggiata, abbiamo anche le nostre responsabilità, i saccensi. Vi dovreste incatenare. Ormai è tardi. E io vengo pure. Ormai è tardi. Questa è una strada, visto che le altre strade non hanno funzionato, tu apri le terme come reparto sanitario dell'ospedale di Sciacca, l'indotto si riapre, chi affittava le case, chi accompagnava, i ristoratori, eccetera, ripartono anche gli altri alberghi, per carità, adesso so che ha riaperto Paloma Blanca, quindi dico… Ma gli alberghi fortunatamente le strutture ricettive a Sciacca non mancano. A proposito di sanità, lei ha seguito, perché è assessora alla sanità e quindi ha seguito queste vicende dell'ospedale di Sciacca, Ribera, questa diatriba che è tornata, quando poi il problema è la carenza di medici, di infermieri, i reparti che non sono stati attivati, una struttura DEA che è rimasta solo sulla carta. Questa è un'altra battaglia che rischiamo di perdere ogni giorno? Secondo me la regione deve occuparsi, questo è un tema, guardi io sono un liberale, lo sanno tutti nel mio paese, ovunque, però sono un liberale socialdemocratico, io penso che alcune cose debbano rimanere a carico dello Stato, tipo la sanità, la scuola e altre cose. Sulla sanità bisogna investire, non è stato investito abbastanza, c'è stato, non so se l'ha visto a Rei 3, sulla sanità privata si è investito. Ascolti, se tu i medici non li paghi e i medici in un reparto ce ne sono dieci, due lavorano, entrano in sala lavoratoria, gli altri otto no, quei due che lavorano dicono perché io devo prendere lo stesso stipendio di chi non lavora, questo è per fare un esempio, allora in sanità bisogna pagare, anche chi per esempio è nei pronti soccorsi, probabilmente anche di più degli altri reparti, i chirurghi li devi pagare, chi sa lavorare li devi pagare, perché purtroppo è così, se no tutti si ammutinano, si buttano, si nascondono, purtroppo se non si attivano anche le scuole di specialistica, per quelle figure che mancano, perché poi lo sappiamo, no? Medici di pronto soccorso, anestesisti. Guardi a Sciacca c'è un pronto soccorso, per esempio manca l'emergenza neurologica, cioè se tu hai un icitus, sia che sia emorragico o ischemico, il famoso stroke unit, se non c'è reparto di neurologia, quindi per questo le chiedevo, la battaglia per ottenere il riconoscimento finalmente di idea, è una cosa che deve sostenere. Sulla stessa discussione che si fa sul ponte e sullo stretto di Messina, dice ma perché fare il ponte se non aggiustiamo le strade all'interno della Sicilia, non mettiamo le ferrovie adeguate e cose, è lo stesso ragionamento, quindi se secondo me anche il pronto soccorso di Ribera, in quanto bacino d'utenza dei paesi, diciamo che ci sono Vivona, Cianciana, Alessandra La Rocca, Santo Stefano e Quisquina, è giusto aprirlo, ma non solo per aprire e neanche per mettere la bandierina che abbiamo aperto il pronto soccorso di Ribera, bisogna anche riaprire altri reparti che in quella struttura possono servire al pronto soccorso, se no il pronto soccorso diventa solo una stazione di servizio, e manco perché lo smistamento poi diventa difficile, perché se no poi ci vuole un medico che sta a telefono tutto il giorno e chiamare il reparto, ma questa è una battaglia che va fatto perché la nostra sanità è carente nel territorio, è carente, lo sanno tutti, se vanno i composti per i pronto soccorsi e vanno deserti, ne chiedo, deve essere una battaglia del territorio e non di sciacco di Ribera che si difende il suo ospedale. La battaglia della Sicilia, la dobbiamo smettere, sulla sanità la Sicilia si deve impuntare, perché se no non si arriva a niente, spero che questo assessore nuovo che è molto competente, è un tecnico, questa è la Volo, con il nome di Giovanna Volo, che è una persona quando sembra molto competente, spero che dia una spinta grossa per la Sicilia, perché non è solo aprire il pronto soccorso di Ribera, dico che ci vuole, bisogna mettere più medici e più infermieri e anche gli os, più os, perché se no il paziente poi non lo prende in consegna solo il medico o l'infermiere, ma anche gli os, perché se no il paziente poi rimane lì senza assistenza. Senza assistenza. Siamo in conclusione, quindi ci rivediamo, vediamo che succede da qui a, penso che giugno alla fine, ma quando verrà fuori questa data dell'elezione? C'è anche un'altra voce di corridoio, molti dicono, può darsi che le elezioni vengono spostate a ottobre a novembre, perché sia il governo musumeci prima che questo governo di Schifani, sono tutti in accordo a rimettere in piedi le province. Quindi accorparle all'elezione provinciale? Quindi è probabile che se fanno la legge come si pensa, questo dico è una delle ipotesi, lo dicono, la voce di corridoio non lo dice Savera Ardizzone, se fanno la legge per il ripristino delle province è probabile che magari fanno l'elezione dei a ottobre perché fanno la legge, ma dico o giugno, ottobre, parliamoci chiaro, non facciamo il qualcuno pensa, dice Savera o spera che si vota a ottobre, se si vota a ottobre, bene se si vota a giugno, io sono un soldato da trincea, quindi quando c'è la guerra io vado in guerra, sia da medico che da politico. Vabbè, allora la ritroveremo sicuramente in trincea, magari in prima fila. Io sono disponibile anche a fare il semplice candidato al Consiglio Comunale, perché c'è un progetto che tenga al bene, questa è una parola superflua, ma che si lavori tutti per poter riportare il bilancio del Comune di Menfi ai suoi fasti, diciamo, in un tempo, se ci riusciamo. Grazie intanto per aver partecipato alla trasmissione, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Grazie, buona serata.